Ma noi non blocchiamo niente, noi prendiamo atto che le dichiarazioni dei leader europei rappresentano ormai un disco rotto, il cambiamo, dobbiamo cambiare, dobbiamo capire che c'è un malessere dell'opinione pubblica nei confronti dell'Europa e prenderemo delle decisioni per riconquistare la loro fiducia. E' un disco rotto che ormai è portato avanti da anni e sono anni che l'opinione pubblica europea sta mandando dei segnali chiari e netti di insofferenza, di rabbia nei confronti della politica dell'Unione Europea. Tanto è vero che in tutte le elezioni nazionali dei paesi europei i due partiti che stanno governando l'Europa da sempre, il Partito Popolare e il Partito Socialista, stanno perdendo terreno ovunque. E questo referendum è l'ultimo segnale di questo malessere che non è rivolto solo a un'immigrazione incontrollata o è specchio di un risveglio dell'orgoglio britannico. E' un malessere perché la gente sta sempre peggio e ritiene che questa Europa non sa dare delle risposte per creare sviluppo economico, per arginare la crisi economica, che spesso fa delle scelte che penalizzano la nostra economia al posto di tutelarla. Questa è la realtà dei fatti, ma tutti questi campanelli di allarme fino ad oggi sono rimasti inascoltati e questo è l'esito e può rappresentare solo l'inizio di una disgregazione molto più ampia. Se non ci saranno delle prese d'atto reali, concrete, con politiche diverse e non i soliti proclami, le solite chiacchiere dei nostri leader.